e ha fatto la zippa ah nico te che sei tutto che eroe esce tra poco e raga dovrebbe cioè non si sa dovrebbero far annunciare un nuovo eroe il 13 forse però non si sa chi è che si sa raga c'è Matteo è fermo sta pensando vero per si riserva è fermo ah no si è mosso è la famosa connessione blizzard quando c'è la famosa connessione blizzard vedrai che stai fermo come un pirla bella lol i simboli blocchi che è successo e si vuole bloccare se lo rendi a te aspetta ora ce l'ho bella bella di e se non è senza mano possibile sempre senza mano facciamo esperienza però allora intanto hanno preso i coci io vado di sotto oh cazzo porco dio ahhh ma hanno rallentato le torri porca madonna fa niente non ti amforino io voglio queste ce le faccio a farli boh sinceramente non è che l'ho usata così tanto qua stai usando omari jaino raga riprendiamo qua perchè stanno morire no hanno consegnato vabbè raga alla prossima consegniamo consegnato si lei non se lo può aumentare il mana? no no però devi prendere quando sei alla quattro a che talento sei se sei alla quattro devi prendere quello secondo se non ricordo male eh ormai ho già preso eh una fregatura perchè quello lì ti serve moltissimo quando fai danno dal congelamento praticamente recuperi il mana 5 4 3 2 1 comunque nel primo dove hai preso la quest nel primo e la battaglia abbia inizio no io la quest ce l'ho di mio no c'è la quest del primo deglopi quella deglopi esatto ah ok no e l'ho 4 bella e ho preso tutto il raggelamento cioè aumenta la durata di raggelamento per ora ecco ormai l'ho presa così poi la prossima volta nooo non volevo fa quello parca puttana ma fa culo ah ho sbagliato da nuovo abituato a tenerlo da un altro tasto non ti potevo lanciare non me l'ho spostato io non ho mai visto si ma io prendo solo un minion con Garo raga conteniamo si si dovete prendere le monete qua sono le monete ma quello deve rimanere proprio dentro il silent ma a parte quella rilasciato le monete lì raga non le prendete ha lasciato le monete si ma non ci vuoi qui non ci vuoi qui vado a killar un secondo Ana vaffanculo e la terza qual'era da prendere? la terza devi dirmela io non me la ricordo più io dai ragazzi si è stato tu e me la prendevo con lui scusa ti faccio un piacere una mozione è perché a me mi dà fatti domande di sport ma vaffanculo ai minion di merda come cazzo fai a non prendere quei belin di minion Nicola cazzo che giramento di coglioni no no ce lo sto usando Garrosh vorrei ancora capire come cazzo fai a non prendere minion prende solo minion vaffanculo e vai e 4 siate pronto ma ritorna il rapone a me cadrà puri a omicida orlo acroce ti dividerà in 2 e matteo va vaffanculo uccidateli infossessatevi dei loro semi in che ti andiamo a consegnare a lui c'è un antiesi si 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 lui vuole prendere questi ora adesso prendiamo devo prendere cromio o pregio il minio? ma va un piccardo attento lascia 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 che sfiga devo capire come fa Nicola o non prendere il minio? Nicola adesso tu muori adesso tu muori che vuoi che vuoi che vuoi che vuoi com'è questo il miele? buono buonissimo ah questo qua? no no non lo sa non lo che cazzo fa sto mato? bello mi sa che gli lagerà un po' per sicurezza vai 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 un vero orco e come che l'ammazzò? vieni dietro come va dietro come va vieni ma la consegniamo ma 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 perché io gli do una direzione poi vado a tutta la direzione stasera? forse premi la vietà ahahah 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 da consegnare alla velocità della luce sono qua raga qua ci stanno due dobloni ah scegli un po' che questo mi tornerà utile questo mi tornerà utile ah 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 affrontami ah 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 cane cane quote sono qua prima io siamo qua p ora amante da morte su affanculo porca eva 7 il motto e dai non morite la cazzo dio il terrore il terrore facciamo un bolletti io aiuto un attimo lui Gooooooo With boss Ok 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 Te lo prendo un attimo io A vero Nice Arriviamo mid Kratos Kratos E questo qua dobbiamo aiutare Sii Massacrateli tutti coccane nessuno che fa il terrore ma cosi hanno liberato il coach comprimi Dio madonna sta a fare che palle e prendi che tu c'è la eva dai ma non è già rotto no perchè ti stanno al focus a te non hai capito perchè mi lancia perchè perchè grito perchè grande nozzi di tu che siete sopravvissuti tu taccati i principali fuoco oh 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 ma oh 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 ma non è meritato guarda il palo che ci vado a facca a te non ci sarebbero strunzi in me anche io anche io bravo avete capito chiamano c'è il numero dentro la cosa non ce l'ho il numero da Laura io per un figlio no telefonino un vero orco non accetta mai io mi so che mi vuole prendere anche le zucchine dai tu? tu sei un po' bravo ma Garco ma dove sei? in partita con degli idioti Nicola se n'è andato senza salutare si l'ho detto lo saluto no no senza salutare è giusto Nicola non deve salutare non è ma attenti ma attenti ma attenti ciao 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 quell'altra persona che non c'è un nome che usa solo grazie Nic ciao Nic ciao Nic ciao ti dimentica quanto ti manca? gatto quanto ti manca? quanto ti manca a perdere? a perdere? poco ma perché non giochi con noi garco? fame grande grande è finita c'è anche chi è la mbp tu valuta l'esperienza di partita la merda non c'è scritto non la valuta non l'ho messo io il fatto di scuola che caos vabbè se non vuole avere più caos non giriamo più e che palla che naso man jingle non win fai le draft? fate le draft? ho classificato allora siamo in tre potremmo anche fare ti volevo mettere in un gruppo tornerò va bene c'è c'è Maria Anja che ci fa sta fumando di tutto e di più non ne ho problema vai su grazie ma Mary ma te fumi normalmente o? no sono di così anche senza fumare questi gruppi ah ok va benissimo quindi droga a gogo va benissimo possiamo fare o classificate o partita rapida decidete voi a proposito se vuole giocare un healer neri? mh quale però? tente morales ok niente e sennò tirande sennò ah no tirande è praticamente un supporto d'attacco niente ok quindi stucca squadra? no per fare si può fare il tank healer e assassin però se non c'abbiamo un healer è un casino e la tante è un healer si io lo so lui è bravo però devi imparare anche te a usarlo così almeno si può cambiare ehm per essere da Morales no Morales in classificata non va bene non c'è mancazzo Morales in classificata perchè? perchè Morales cura se c'hai ad esempio come Lucio oppure anche come Stukov Stukov fa sia supporte come healer e cura un botto sia ehm se ti silenzia quindi praticamente ha un doppio utilizzo Morales a parte le bombe non serve un belino capito cosa voglio dire lo stesso Malfurion se ti inventi il piazza per bene beh però cura un botto Morales ehm se fai il paragone tra Stukov e Morales cura più Stukov che Morales perchè quando hai finito la quest Stukov ti cura un botto ma veramente è una cosa impressionante ti rifulla quindi hai capito qual è l'utilità anche Morphurion se lo sai usare bene Morphurion fa delle cose spettacolari abbiamo detto grazie sì infatti mi sembra che migliori sono Lucio Morphurion Stukov e Uther Uther eh qual è tu? ehm all tank all healer uno dei due sappiamo che almeno qualcuno muore e non muore puoi fare Lucio oppure poi è uguale ah posso usare quello che vuoi io ho dato per amare se usare tu no sta in culata che è brutto eh e ora che speciale stusite raga eh prendili me prendili me prendili me prendili me mi gioca eh cioè io questi so usare questi mi diverto anche i personaggi non mi piacciono non li prendo devo bandire qualcuno sì chi bandisco Maiev o mai 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 eh che prendi living ma io ti su qualche vuoi Lucio eh quello che fa allora ok ma fregato tutti ok 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 ma io io che cazzo dovete ho vede niente vengi vengi non per cazzo non credo stuco stuco sei usarlo bene stuco devo per il suo strumento se vuoi la propria distruzione credo per lo corso chi è detto kaltas kaltas che per questo ci sta alberto ht sull'esercito per me anche a no ma ci serve più il possibile che c'è un dubbio tanto cazzo io con Anna so fortissimo a prendi Anna dai ma perchè con Anna riesco anche addormentabili e in più gli blocco le cure di lusio eh ragazzi bloccare pure è tanta roba buono 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 meno male che non l'ho più giusto picco ah vabbè sì la torna non la prendono ok sf craUE ma manta e manta grissivi ai 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 hanno molti danni iサ ok va bene non sarà facile no perché io mi devo curare da soli sì ma devi piacere anche gli altri no problem mia madre che non c'è la televisione alta non c'è la televisione alta di più è più alto e dell'altra grafico d'acqua e le mamme è sorda con una campana ci faccio mi è già so sordi i miei sono 40 anni i tuoi c'hanno 90 anni domani sono da 45 anni ah beh ma sono giovanissimo c'ha quanto me è però dico appunto so sordi pure è questo problema non c'è solo perché fanno gli insegnanti e non sentono ok si mi passo vent'anni con i miei cazzo sei giovane cioè il tuo è il suo giovanissimo sì sì hanno avuto a mio avventù un'anni mi fratello diciamo molte cose ecco perché non vorrei fare l'errore io ti consiglio di non farlo proprio l'errore eh esatto lo sto guardando a matteo qua beh va bene ma siete in due normalmente che lo fate capito no è colpa sua beh sì e no normalmente è sempre colpa il mio calcolo devi capire sì no però principalmente c'è colpa tua sì sì va bene abbiamo capito scusa la battaglia abbia iniziato allora io faccio un po di lane e poi quando escono i minion vado giù perché ero vicky bravo devina chi lagga se me le tieni così è una grande cosa è morto porca aeva è morto quattro cinque cosa ti fai il culo speriamo questo è una giornata è un leader supporto sì non ti ci facevi bella grazie a volo dissi mi serve il cambio e sotto per entrare in boccia no io voglio sapere una cosa come cazzo ha fatto a sapere che era bambini ho cose belle dall'altro mondo mia madre ha detto bella e ha sentito la cosa più bella è stata una volta explan, c'è malo bella sempre io tuoi e stacca nace tanto grigio, sopra aspetta 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 ti darò dirmento almeno dormita ahhh buono tu riputati il mana quanto vuoi, tanto ti ripuro io c'è un'altra palla, non ti grillo c'è anche Lucio no Lucio ce l'hai già andato no Lucio è qua, dicevo ok, non ci sono ok, resto qui con te, vai tutti in tre e dove sono? c'è un 11 bella, ecco va vai vai, ributtati sul mana e che cazzo eh? e dov'è quel cazzone di madre? passavi giusto giusto ragazzi siamo prendi i posti no? si di sotto non c'è nessuno no? vado io Mary vai sopra con loro, dagli una mano assolutamente eh ragazzi così ce le in cura no? eh di sotto non c'è merda eh non ci sono arrivati no 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 aspetta ti culo ah 32 già fate prendere quello vengo su non lo so stanno un po' in culo basta che, ecco basta che li tenete lì stanno scivolando hanno presi tutti loro praticamente però hai offritto anche il mana mi serve ancora bravo ma che dietro bravo un baratto è stato bravo perfetto perchè mi spari? eh il titolo ho curato mi pare veramente che mi spari, fammi male non sono abituato arriva che è che c'è? sto arrivando il giornale Mary vai indietro però non possiamo perchè ormai mi ha scoperto vuole lanciarci contro la roba ma non ce la faccio no, sorry guarda che laggata c'è ma è matello non stanno tutto sta laggando eh raga porco mondo bello bello furia uccida puria uccida tanto grigio sotto attenzione bella questa me lo levate Genji da dosso no cazzo aspetta aspetta no cazzo solo questo sa fare sto imbicino uccidetelo uccidetelo bravo e qualcuno che lo rilancia qualcosa eh ci si fa non ci si fa non ci si fa no ci si fa ci si fa ci si fa stai buono non è ancora perso ricordi quella volta che noi cominciamo a tirargli giù tutta la roba ci vincerò contro che avevano uno io sono a 33 ah ha dormito ci si fa ci si fa sta tranquillo non avere non avere non avere troppa furia basta che non perde troppe esperienze quello si e non perdere i fight cioè non morirci vedete però le povere mettiamo gli giusti mettiamo gli giusti guardi ti do anche l'elettro stimolatore no 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 non me lo dai non me lo dai no 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 ce l'ho però ok adesso li dobbiamo fare almeno uno dobbiamo farlo e ucciderli prima eh allora siamo anche uno in meno 34 ah c'è lì si sono venuti in 5 km ha fatto apposto eh si stanno qua comunque raga si sanno dove stavo io ci vuole un vichillato eh vabbò prendiamo vai 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 prendilo prendilo eh raga il discorso che fa dotatore il tuo stimolatore vai 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 fai il boss fai il boss fai il boss l'età basta con questa tassata due ne ho dal custode del bar vai 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 ok arriva è adormentato addormentato e io ho preso tutte le stack adesso ci divertiamo no ma l'ho spostato cazzo sto finendo anche il mano questo stronzo come mi punta no sotto 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 la riconquistalo subito questa non ci voleva no è cosa è manto grigio bisogna farlo subito 23 secondi possiamo recuperarlo subito bisogna recuperarlo abbiamo 12 secondi e sta andando giù ci la facciamo uno sopra e uno sotto conquistateli aiutari non deludemi cerca di prenderlo subito no cazzo no ma me lo sposta sempre eh non ce la faccio a curarti cazzo troppi danni si ma in 4 mi hanno dovuto buttare giù in 4 almeno uno l'abbiamo mandato va bene meglio meglio sai che lo vuol dire che mi chiusciamo in 4 e io risucchiamo la vita col biostimulatore sai che lo vuol dire cioè se ero uno contro uno tiravo giù tiravo giù qualsiasi cosa ma te l'ho detto col biostimulatore fai un cassino adesso bisogna stare attenti fatemi restare arrivo tra 3 secondi ok lo stiamo vendo pulisco sotto perché c'è un po' troppa merda fatelo fuori fatelo fuori ok ok nice bella roba raga andiamo a fare campi di sopra no li buttiamo in giulatore buttiamo in giulatore ah vai ti curo ti curo ti curo nice nice i soldi i soldi i soldi mi sono la verità si riesco a spedito la storia la storia la storia di questo secondo il suo passativo prendetelo voi questo vado su io cazzo ben g vedo guarda 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 è rimasto fermo guarda, sono in seria è rimasto fermo fanno muori, non lo cura ma deve morire Kench no, deve morire Anubarack cioè se tu devi vedere la scena è rimasto fermo ti ho dato lo simulatore no 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 non ci vado più ad aiutarlo cazzo dai ragazzi ti tengo ti tengo ti tengo ti tengo ti tengo tu motiva uuuu vincia vieni 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 ho trovato spazio sono da carriamo buonissimo i mercenari di sotto tutte e due no ma attenta ti aiuto diamo vai 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 a me non mi serve vado buona prendiamogli la torre di sotto adesso insieme a mercenari facciamo avanzare i mercenari aspetta aspetta che arriva malta è di qua eccolo lì dormitato ok 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 è meno stordita 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 ogni volta se vuoi ci sono il tuo stimolatore eh cronaccio cronaccio bellissima mi curo uuuu nice vince vince per stimolare cosa va a fare malta 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 si roma ma non Siamo ancora di sopra Nice Questi qua se morimo andiamo E se arrivano lassù Questi gli levano Del senso Quattro 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 Grazie raga tutti giù, tutti giù, tutti giù lasciatevi a te quella tutti giù, evitateci no raga, andate via da lì venite via chiama le posizioni, chiama le posizioni i viti eeeh non mi ricordi via sta arrivando cazzo, arrivo, 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 arrivo prendilo, prendilo, prendilo vai, vai, ti registriamo noi finita, nice, è finita e' inculati tutti, te l'ho detto io guardate le cure 77k, più di russia mamma mia e' curare non e' facile c'e' curare come lei non e' facile nice e' MVP no dire la verità quanto ti diverti quando ti toglie l'elettrostimolatore nice mi manca l'ultima partita di piazzamento allora a sto punto va rifatto e se volete prendo Anna allora però mi stai attento comunque ha giocato bene se non c'era ad esempio un barack per i cc ti inculavano a parte il diavolo che mi ha spostato quattro volte quel cazzo di affari che mi diceva le pozze porca cane mi ha girato i c***o la baffanculo veramente che cazzo parca miseria sì però in un barack non ho capito perché mi ha fatto con la mossa prima allora io me ne siamo tre però vado a mangiare adesso che mi c'ho le c'ho in tavola ma non c'ho l'ultimo e vabbè devo mangiare ragazzi non stai con te qualcuno uno di quelli di prima ah c'ho De cerca di rega spazi sì era un barack sì perché ha visto che era una signorina e ha detto qua ci provo io quasi quasi ha visto il nice healing ok ci vediamo dopo io mangio a dieci minuti